Ok del Ministero dell'Ambiente alla possibilità di velocizzare la bonifica della Fibronit di Broni con la procedura di messa in sicurezza d'emergenza. In pratica l'ultima tranche dei lavori di bonifica già finanziati dallo Stato con 16 milioni di euro potrà essere avviata adottando un percorso semplificato. L'attuazione della messa in sicurezza d'emergenza, ha precisato il sindaco Antonio Riviezi, è subordinata alle disposizioni della Procura della Repubblica stante l'indagine ancora in corso e il conseguente provvedimento di sequestro. A questo proposito, ha aggiunto ancora il primo cittadino, voglio ribadire che in caso di rinvio a giudizio il Comune di Broni si costituirà parte civile nel procedimento. L'area ex Fibronit è sotto sequestro dal maggio dello scorso anno a seguito di presunte irregolarità emerse durante il secondo lotto di lavori e ciò rappresenta ad oggi un'incognita per l'avvio dell'ultimo lotto. A settembre è previsto un tavolo tecnico con gli enti territoriali interessati come Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Arpa e ATS per un aggiornamento ufficiale sulla comunicazione ricevuta dal Ministero dell'Ambiente.